Buona serata a tutti, so che siete stanchi, siamo a fine giornata, cercherò di non annoiarvi, ci proverò, cercherò di spaventarvi, perché altrimenti non servirebbe a molto. E la mia sessione si intitola Adesso tocca a te, chi è il prossimo? Questo perché io passo una parte, anzi una buona parte della mia vita tra pentest da una parte e a fare remediation sulle aziende che vengono sostanzialmente bloccate e messe in ginocchio per ransomware. Quindi in tutta la mia carriera, che oramai si è via verso il 28esimo anno di vita, ho sempre trovato avviende che dicevano di essere protette e in realtà ogni volta dove vado trovo delle misconfiguration o delle problematiche che sono molto prima a quello che ha fatto vedere Nino, che è un hacking di altissimo livello. Ha detto una cosa verissima, che diventerà un mio mantra e che lo è stato e dovrebbe diventare anche il vostro, che il professionista attacca la persona. Se voi fate il pentest, è attaccato agli siti web, eccetera, non avete un rapporto diretto con la persona. È un approccio totalmente diverso e soprattutto è un approccio molto più difficile, tra virgolette. In realtà il social engineering continua ad essere il buco che viene sfruttato per bucare. Questo è il nostro, direi che siamo a fine giornata, se volete twittarlo volentieri per i giorni successivi, ma oramai siamo a fine giornata. Chi sono io? Non vi sto ad annoiare, ve la faccio passare molto velocemente. Questo è un po' tutto quello che sono, un po' tutta la mia carriera, quello sotto è quello che sono, uno sbanettone, sostanzialmente. Quindi, partito come un gioco, è diventato un lavoro, mi hanno dato qualche riconoscimento, ho qualche certificazione, fine della presentazione. Altra veloce slide, ho una società di cyber security, insieme ai miei soci, si chiama IT4U, facciamo praticamente sicureffa, networking, remediation, l'abbiamo inserito, brutto da dire, però purtroppo serve anche quello, quindi ci muoviamo dove il latte è già stato versato. Fine della promozione. Bene, abbiamo parlato di cloud e se uno fa un attacco o vuole attaccare la vostra avvienda, ad oggi difficilmente punta direttamente al cloud. Io non punterei direttamente al cloud, perché in una situazione italiana in cui il 95% delle avviende è perlomeno in una situazione ibrida, io vado a puntare quello che c'è di fisico. Il fisico non lo considera più nessuno, perché oggi è tutto cloud, è tutto bello, è tutto come vedete protetto da Microsoft o da altri brand direttamente, quindi voi non vi occupate più di nulla. In realtà, a meno che non abbiate una distribuzione, quindi tutti i vostri dipendenti, tutti voi siete al di fuori della vostra avvienda e lavorate tutti direttamente su cloud, ma non vi potete loggare, perché non potete agganciarvi ad Active Directory, a meno che ogni tanto prima un collega mi ha detto ho un cliente che vorrebbe spostare l' Active Directory in cloud e tirare via tutto, non è possibile ancora ad oggi, quindi un'infrastruttura fisica voi la dovete avere e io è lì che vado ad attaccare per cercare di trovare un buco, quindi un buco fisico o un buco sulle persone, dopo vi farò vedere com'è il buco sulle persone. Questo è un po' quello che vi farò vedere oggi, l'attacco che parte dal fisico, il responder, è un tool che è dentro Cali, la stampante di rete non protetta, è una bruttissima bestia, non sembra ma lo è, il man in the middle six perché quasi nessuno si occupa di L d'APS o DNS e PV6, sapete che esiste, sì certo, lo utilizzate in avvienda, lo curate, boh, i PV6 molti di noi devono ancora capire che cosa ci dobbiamo fare, quindi se lo proteggete, l'avete protetto, l'attacco non vi darà fastidio. Poi vi faccio vedere i dati una volta che vengono sfiltrati, dove vanno a finire, e quanto a quel punto voi siete virtualmente morti. Alla fine vi faccio vedere una piccola slide di avvround, quindi come fare privilege escalation partendo da una sita fan on-premise e andando direttamente a fare escalation e diventando domain admin di avvrad. una cosa molto veloce. Bene, dove mi muovo il 99% delle volte quando chiedo siete preparati, avete tutto a posto, la risposta è sempre sì, sempre, ogni volta. Quindi non è questione di se sarete attaccati, ma di quanto sarete preparati quando succederà. Cittafione me stesso perché io continuo oramai da 20 anni a dire questa cosa e mi trovo sempre davanti degli amministratori di rete o dei DevOps, che oggi va tanto di moda, che mi dicono noi siamo protetti, non abbiamo problemi. Questo perché non gli è mai successo di essere attaccati o magari sono stati attaccati, hanno fermato un attacco e si sentono blindati. Di blindato non c'è nessuno, non c'è la mia società, abbiamo visto non c'è Microsoft, quindi se non c'è Microsoft difficilmente potremmo esserlo noi. Noi possiamo avere un 95-97% di sicurezza su quello che è la nostra azienda e di quel 95-97% un buon 80% è dato dalle persone. Se voi salvaguardate le persone e gli date formazione, avete coperto quasi tutti i buchi. Poi, come diceva Nino, si arriva alla tecnologia. Questa è un mio pentest, The Phoenix sono io, è il mio nome da hacker, su un'avvienda da 500 client, questo qui è il tempo di crack del Wi-Fi, un minuto e 15 secondi. L'ho craccata stando dal balcone dell'agriturismo, della stampa dell'agriturismo che mi ero preso e l'avvienda era giù a valle. Non è che è una WPA2, quindi non è che chi ha fatto la security qua era una persona che non era in grado di, semplicemente non aveva pensato alla sicurezza fisica, non aveva delle protezioni a livello di anti-ROG degli access point e di anti-the-out da parte degli attaccanti, perché una buona parte dei servifi li aveva esternalizzati, quindi gli Tianmin avevano blindato praticamente tutto perché tanto non pensavano che qualcuno sarebbe potuto andare fisicamente a craccargli la Wi-Fi. Signori, io sono bianco, ma se questa fosse nera, se voi mi pagate, io vado dappertutto. Se io ho un ritorno e voglio venire, perché è solo una questione di soldi, voglio venire a prendervi dei soldi, a seconda di quanti soldi voi potenzialmente potete darmi, io mi sposto, non sto dall'altra parte dell'oceano a lanciare un ransomware. Certo, lo faccio se riesco, ma altrimenti io prendo il mio aereo anche e vado dall'altra parte del mondo e vi cracco l'avienda fisica, perché è lì che c'è la superficie d'attacco. Se devo attaccare un'avienda che ha 13 VPN, non attacco la sede centrale, attacco il cantiere che sta dall'altra parte, magari in una cava in cui c'è una Wi-Fi non protetta e da lì vi entro sulla sede centrale, ok? Nel momento in cui sono dentro, mi muovo. Nel momento in cui abbiamo una connessione di un qualsiasi tipo e voi non avete in mano l'inventario o comunque non sapete che cosa c'è nella vostra avvienda, è più grande, più difficile, questo è il risultato. Io ho fatto 39 pen test negli ultimi 5 anni, possono sembrare pochi, ma sono infrastrutture, con anche 1200, 1500, 2000 client, quindi non sono effettivamente pochissimi, ok? Solo in 7 casi ho guadagnato il domain admin. Cosa vuol dire? Non me ne faccio niente del domain admin, voi avete un problema principale che è l'esfiltrazione del dato. Nel momento in cui io porto fuori dei dati vostri, non ho bisogno di essere l'amministratore di dominio. Nel momento in cui io ho un accesso, che possa essere anche solo un accesso di un utente qualsiasi, un utente base, che è un utente dell'impiegata amministrativa e io ho la vostra lista clienti e la sfiltro, voi avete un problema, perché se quella lista clienti o quei dati che ho portato fuori, che possono essere anche solamente le fatture, finiscono nel dark web e il vostro cliente se ne accorge, voi avete un 4% di fatturato di causa per GDPR, voi chiudete baracca. Cioè non ci sono, non c'è più via di scampo. Il fatto, il discorso di essere bloccati per ransomware oggi non è più realmente un problema quanto la sfiltrazione del dato. Se vi portano fuori i dati, siete virtualmente KO. Fate prima chiudere, perché vi beccate una causa da ogni cliente, perché adesso non sarà in chiaro, ma quello che vi farò vedere poi, vi farò vedere i due siti principali di Lockbit e Alphavu, in cui ci sono tutti i database di tutti quelli sfiltrati e ci sono degli studi che fanno consulenza finanziaria. Voi affidereste i vostri soldi a uno studio che fa consulenza finanziaria che è finito nel dark web perché gli hanno sfiltrato i dati? Non credo, quello studio può chiudere. Quindi questo è il problema principale, ne avete due, non dovete farvi bucare, non vi dovete far portare fuori i dati. e di solito le due cose vanno insieme. Quindi a me basta una connessione e riuscire ad accedere a un qualche tipo di dato sensibile dei vostri. Nel momento in cui io sono sulla vostra rete, quindi sono entrato sulla vostra rete che può essere aver bucato una wifi, aver messo un dispositivo attaccato a una presa di rete del magavino, aver attaccato un cantiere dall'altra parte del mondo che ha una VPN, aver preso possesso di una macchina che è all'interno della vostra rete con un link di reverse engineering, scusate, con un reverse engineering o un link andato via phishing, insomma io sono dentro la vostra rete. A quel punto lì vado a sfruttare delle vulnerabilità, non sono delle vulnerabilità, sono come funziona Active Directory o come funziona la rete Microsoft, vado a sfruttare delle problematiche che sono ancora presenti in quasi tutte le reti dove vado. Questo qui è, vedo se riesco a farlo partire, dovrebbe partire, forse, ce la posso fare? Sì? Ok. Questo qua è un responder, che cos'è il responder? Sostanzialmente il protocollo NTLM, NetBIOS o LLMNR è un protocollo che è ancora attivo su quasi tutte le reti dove vado, ok? NetBIOS che cosa fa? A un certo punto va a fare, nel momento in cui il DNS non funziona, una richiesta di broadcast su tutta la rete. Io attivo un semplice tool che si chiama responder ed è built in dentro a Kali, o comunque ve lo potete installare anche sulle altre periferiche di attacco. Vado a loggarmi, qui è in onore di The Boys, quindi c'è patriota, vado a loggarmi su una macchina qualsiasi della mia Active Directory, la mia macchina, il mio utente ha già dei percorsi prestabiliti, che possono essere le mappate, possono essere una cosa qualsiasi, se un qualsiasi utente della mia struttura si sbaglia ad andare a cercare una share, quindi fa un barra barra e sbaglia un nome, o va a cercare una share che non esiste, che cosa succede? del DNS non funziona più, nel bio io se attivo fa broadcast, c'è il mio responder in attesa e si prende l'ntlm2v2 hash della mia macchina, dell'utente loggato, quindi qua io ho semplicemente sbagliato una connessione, lui mi chiede delle credenziali, ma qua posso anche metterle, se le metto è ancora peggio, perché le mette in chiaro, mettiamo che non le metto, adesso vado a stoppare il responder, vado a prendere l'ntlm2 hash, eccolo qui, me lo metto in una word list e me lo vado a decriptare, uno dice sì ok, ma non si decripta così facilmente, perché se hai una word list vuol dire che è già all'interno della word list, benissimo, tiro su un'istanza P3 di AWS, ci metto, praticamente tira su un pool di server con una velocità di calcolo elevatissima e di solito in 4 ore, 5 ore mi decripta l'hash per tentativi, altrimenti posso provare con un rainbow crack, quindi se non ce l'ho nella word list vado a fare un'interno comparazione sulle tabelle rainbow, non mi sto a spiegare cosa sono, comunque sostanzialmente cerca qualcosa che somiglia, la prova, se funziona la segna e alla fine va a decriptare. Qui adesso quello che vi sto facendo vedere è vado ad utilizzare Ashcat, che è il tool che si utilizza per andare a fare decript degli NETLMV2 Ash e a quel punto lì qui uso la Rokyu, chiaramente, solamente per una proof of concept, l'istanza che è andata a tirare su P3 su AWS vi costa 60-70 euro l'ora, ma siamo sempre lì, non mi interessa niente di cosa spendo, perché io non è che vi attacco per 300 euro, quando vi attacco vi attacco per una quantità importante di denaro, quindi 300 euro per me anche quando vado a fare un pentest per decriptare un Ash e farvi escalation o lateral movement non sono soldi, quindi non stiamo parlando di cifre, come diceva Nino, 66 euro, 200 euro, sono cifre che si possono tranquillamente investire. Adesso magari lo mando un po' avanti se riesco, comunque in ogni caso siamo già alla fine, che cosa succede? Bene, ho decriptato la password, io ho una password valida di uno user di Active Directory, quindi sono dentro la vostra rete ed ho uno user valido, a quel punto lì posso fare privilege escalation, mi posso usare quello user per vedere dove ha accesso, eccetera, eccetera, eccetera. vi dirò adesso qui non ce l'ho non ve l'ho messo perché era un po' più complicato, però usando un tool dell'Empacket posso spazzolare con quell'utente e andare a puntare al domain controller per vedere se ho un service account che mi ridà indietro un accesso service perché se sapete come funziona Kerberos, se non lo sapete ve lo spiego, il primo ticket che vi dà è per l'accesso e il secondo ticket che voi andate a richiedere è per le risorse, quindi nel momento in cui vado a spazzolare il domain controller con quello user e fargli un get uspn user vado praticamente a richiedere se c'è un servifio e lui mi risponde e mi risponde in quel caso con il service account e l'hash del service account a quel punto lì guadagno un altro hash che posso provare ad andare a decriptare e sto facendo escalation. Qui adesso che cosa stiamo vedendo? se non ho questa possibilità di metto e rispondere la prima cosa che faccio quando entro in una rete e faccio un pen test metto un rispondere in listening più la rete è grande più ci sarà qualcuno che prima o poi mi darà qualcosa perché poi adesso ne avete visto uno ma tante volte ne trovo 10, 12, 15 di hash gli utenti quindi me li posso giocare su 10, 12, 15 se non c'è una password policy importante qualcuno che ha una password semplice magavino, magavino scansioni, scansioni c'è anche se avete delle password policy impostate non è sempre una password policy che è per tutti perché magari l'amministratore delegato non riesce a digitala e la vuole semplice succede quindi i due fattori è il futuro la stampante bene non sono riuscito ad avere degli hash vado su una stampante che ha un web server e al cui interno al 99% delle volte ci sono delle cartelle di scansione ok e che cosa faccio nel momento in cui ho un accesso a una stampante non protetta mi si è addormentato il mouse no? ok un accesso a una stampante non protetta vado nel web server della mia stampante in cui il tecnico di solito inserisce scansioni scansioni ma 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 tante volte inserisce il domain admin perché è più facile mi è successo mi succede continuamente diciamo è facile bucare le cose così no non è che è facile è che tutte le volte ci sono dei buchi di questo tipo se anche non ho un domain admin io ho andate in pausa si è addormentato si è addormentato molto bene lo riprendiamo fuori qui anche l'altra volta si vede che non mi piace il questo tipo di video ci sarà qualcosa sul video non ho non mi sono autocraccato ok salto la piazza la parte in cui provo a posizionarmi magari un po' più avanti ok qui si vede bene cosa faccio? se c'è una cartella di scansioni mi cambio il percorso questa è già impostata non riesco a trovarla questa password qua perché è decriptata non riesco a decriptarla ma è già impostata mi cambio il percorso della scansione mi metto la mia macchina che ha il listener e vado a lanciare il test lui che cosa fa? fa il test con un SMB aggancio SMB e mi ridà un hash sulla mia macchina questo è l'administratore di dominio adesso questi sono casi rari però mi è capitato lì avete già finito di fare tutti i test di sicurezza del mondo perché ok che può avere una password complessa ma molto probabilmente riuscite ad andarla a decriptare se tirate su un'istanza e qui se anche ci mettete 4 giorni 5 giorni la lasciate andare qui avete un golden ticket come dicevano ok se non è un utente di dominio potrebbe essere anche banalmente tante volte scansioni scansioni o scanner ma non ci interessa questo è un altro problema quindi stiamo sfruttando una vulnerabilità di come funziona il sistema NetBIOS per andare ad ottenere delle informazioni critiche soluzione disabilitate NetBIOS dappertutto se non ne avete bisogno non ne avete più bisogno perché gli otto caratteri sono finiti a meno che non abbiate ancora dei 2030 ma fine disabilitate il protocollo NetBIOS è una rogna da fare ma va fatta perché se avete qualcuno dentro con un responder che sta ascoltando voi non ve ne rendete conto nel momento in cui avete disabilitato NetBIOS avete risolto tutti i problemi altro problema l'LDAP S l'IPv6 e la certification authority sul domain controller sicuramente voi sarete bravissimi anche quelli che mi stanno ascoltando saranno bravissimi nessuno avrà la certification authority sul domain controller se avete la certification authority sul domain controller e avete in quel caso l'LDAP S attivo qui vi sto facendo vedere che ci sono degli sviluppatori che spesso mettono nelle note degli account di servifio che trovano la password succede anche questo trovo ci sono dei dev tanti dev che lo fanno lo facevano o hanno lasciato i dei servifi ma in ogni caso è solo una dimostrazione per farvi vedere che il tool che vado a lanciare adesso che è il man in the middle 6 che cosa fa anche in questo caso si occupa di del fatto che non essendoci nessuno sull'IPv6 e sul DNS versione 6 che sta facendo richieste si piaffa lui e nel momento in cui un qualsiasi client fa un login sulla struttura si prende una sorta una quantità di informazioni a seconda di quel client di chi fa parte dei gruppi eccetera però c'è un problema se si logga un domain admin su una qualsiasi macchina della struttura il man in the middle 6 crea un utente di chiaramente user non domain admin all'interno di active directory e voi avete un utente e vi da la password quindi la crea automaticamente user e password questo se si logga un domain admin vi logate ogni tanto per fare dei task perché non sareste umani se avete una certification authority enterprise le trovo spesso perché venivano installate magari per i server exchange magari per i certificati interni ci sono e ce l'avete sul domain controller siete soggetti a questo tipo di attacco funziona sempre e non sapete se ce l'avete gestito a meno che non sappiate che state gestendo dns pv6 eccetera allora lì ok però se sapete che lo state gestendo avete anche mitigato questo tipo di attacco anche in questo caso questa è la seconda cosa che faccio quando vado in una struttura a fare un pen test rispondere da una parte man in the middle six su un'altra macchina dall'altra parte e poi aspetto magari non c'è niente ma magari qualcosa arriva qui adesso vi fa vedere vi faccio vedere che cosa va a prendere ok crea automaticamente tutta questa serie di informazioni domain users domain policy quindi le policy cui l'utente ha accesso e la cosa più bella è che se vai a vedere la lista degli utenti ok metto in pausa ti dà la descrizione del servizio ma questo non è un servizio di quell'utente lì un servizio a cui quell'utente lì può accedere quindi se lo sviluppatore per un qualche motivo ha messo nelle note qualcosa che non deve come in questo caso ma come in altri casi io ho che ho un utente che è un SQL service quindi è un NT system e ho una password di un account locale chiaramente si spera non di dominio ma locale che può essere su domain controller o su un'altra macchina però quello lì è un administrator come mitigare questa cosa avete già capito controllate di non avere delle certification authority installate se volete gestire i pv6 i dns i pv6 ve lo gestite ne siete consapevoli e avete sostanzialmente mitigato l'attacco ok facciamo un respirone non è il break questo se non sono riuscito ad accedere in nessuna maniera a questo vado a scalare su qualcos'altro questo spesso lo sentite ho sentito parlare continuamente di sto dark web quelli come me ci passano una buona parte del loro tempo per una questione di se devo difendere devo sapere chi mi sta attaccando ma in realtà anche per un'altra cosa chi fa il mio lavoro chiaramente nel momento in cui viene assunto ha una lettera di incarico e può utilizzare tutte le tecniche per andare a cercare di accedere alla struttura questo comprende password spraying password guessing eccetera dove mi procuro io il vostro sistema di password che non vi conosco ok posso provare a ipotivare che se vi piacciono gli animali magari o il nome del vostro cane la vostra data di nascita ok ma ci sono dei luoghi in cui faccio molto meglio a trovarmi uno di questi è dove nel dark web dove vengono esposti i data breach i data breach sono quelle quantità di dati che vengono resi pubblici perché non vengono pagati o anche solamente dai black hat quindi dagli hacker neri per dare la possibilità poi a tutti gli altri hacker neri di venire ad attaccare le strutture le persone eccetera avete mai sentito parlare del Cito Day? forse no perché? perché non l'hanno pubblicizzato perché non l'hanno pubblicizzato il Cito Day del 2019 non l'hanno pubblicizzato perché è il più grosso data breach che ci sia mai stato nella storia dell'informatica un sito che manteneva dei database dei database storici come può essere Wayback Machine l'avete mai usato per andare a vedere i siti web vecchi di 10 anni 20 anni? bene quello lì era un sito che aveva questa peculiarità era un sito simile Wayback Machine cosa faceva questo sito? praticamente faceva degli snap ricorsivi di quasi tutta internet ok? e negli snap c'erano compresi anche i database hanno buccato il sito hanno preso giù i database li hanno messi in chiaro e hanno deashivato le password di accesso qual è il problema grosso? il problema è questo 23.000 database 226 milioni di account 16,7 miliardi di password non vuol dire che hanno la vostra password della posta elettronica ma vuol dire che hanno la password del vostro user e la vostra password chiaramente di accesso al sito che hanno bucato e se voi non l'avete cambiata perché manco sapete che siete stati bucati perché il sito dei non l'hanno pubblicizzato per questo tipo di perché ci sarebbe stato un fuggi-fuggi generale la vostra password per quel sito è ancora valida e voi sicuramente sarete bravissimi e non avrete un sistema di password per cui io sono capace di andare a capire come impostate le vostre password e non avrete il fatto di dire ogni anno a giorno l'anno della password perché è passato il 31-12 o ci metto il punto esclamativo all'inizio e alla fine quindi io mi procuro le password all'interno dei data breach tanto per farvi vedere che non racconto frittole questo è il mio hard disk chiaramente l'hard disk è criptato ok quindi è in una posizione in cui non è che venite in casa mia lo prendete sulla scrivania è in un posto sicuro è criptato questa è la quantità di siti in cui questa è solo una piccola parte questo è il Cito Day quindi tutto il database del Cito Day adesso vi faccio vedere i siti italiani ve lo oscuro questi sono tutti i siti italiani in cui le password sono in chiaro magari non lo sanno neanche che sono stati bucati quindi se non lo sanno loro figurati se lo sapete voi io faccio una ricerca all'interno di questo sito nel momento in cui la vostra avvienda mi dà la possibilità di attaccare e vado a vedere se la mail avviendale è all'interno di questo data breach se la trovo me la utilizzo e poi vado di password guessing e password spying provo a cambiare carattere provo a cambiare l'anno perché voi comunque siete bravissimi non avete una password basata sull'anno finale o l'anno iniziale o la data di nascita eccetera e provo ad attaccarvi stesso discorso per quanto riguarda anche Facebook perché nel momento in cui io faccio un attacco a un'avvienda cerco di con social engineering di creare un rapporto con chi devo andare a bucare è un processo lungo non è che arrivo lì e dico ciao come ti chiami mi daresti la tua password se tu mi guardi che vuoi ciao mi cliccheresti su un link non mi clicchi su un link non sei stupido ma non è che tutti quelli che cliccano non sono stupidi anzi ma prima o poi basandoci sulla curiosità e sulla debolezza un modo per passare lo si trova più la vienda è distribuita più è facile perché c'è chi è strong io non vado ad attaccare l'IT non attacco il reparto IT dell'azienda il reparto IT è strong attaccherò magari l'amministratore delegato che ha un'età in cui l'informatica per lui ha un problema e magari non vuole la password o la due fattori sul suo account perché gli crea un problema lì attacco attaccherò magari un utente semplice per me che può essere quello del magavvino non vado ad attaccare l'IT troppo complesso questo è il data breach di Facebook anche lui quindi 35 milioni di account questo è solo l'italiano tanto il resto non mi interessava però ci sono ci sono anche gli altri eccoli qua Argentina Australia Ferbaigian a Ferbaigian c'è poca roba ok quindi già solo aprile non fai 840 mega TXT è fatica però ci sono dei software che lo fanno vado a cercare i vostri dati vado a cercare la vostra mail vado a cercare la vostra password e mi crea un piccolo database per vedere se riesco a bucarla ma non lo faccio solo per uno se l'avvienda ha c'è una sorgente bellissima che è LinkedIn che dice questa avvienda ha 100 impiegati vuoi vederli tutti clic mi faccio una lista mi creo una user list mi creo una pass list e la passo con un software automatico non mi metto a mano dimmi mi contattano proponendomi dei lavori mandandomi dei link dove mi chiedono scarica questo format scarica questo format Anna si sente brava scarica questo format da compilare dopodiché possiamo fare un colloquio allora io rispondo scusami ma per deformazione professionale occupandomi di cyber security questi link non li clicco mai però è un nuovo modo rispetto magari al passato dove è arrivato è un nuovo modo allora il discorso dei link perché quasi tutti gli attacchi partono comunque da dei link nocivi che vengono mandati via mail vengono mandati via Instagram via Whatsapp ad oggi un po' dappertutto si risolve molto semplicemente prendendo il link e andando a incollarlo su VirusTotal VirusTotal ha un servizio che oltre a capire se c'è un file che ti mandano e tu glielo butti su c'è proprio una voce in fondo che dice link si si tu prendi copy anche dal telefonino che il telefonino è molto meno soggetto ad attacchi rispetto a una macchina fisica a un computer quegli attacchi che ti mandano di solito si chiamano Credential Attack quindi servono per poi alla fine magari o prendere informazioni o tu inserisci i credenziali e gli dai tu praticamente in accesso però tu prendi quel link lo metti su VirusTotal lui ci guarda e se il link è nocivo lo banna quindi dopo due minuti che tu l'hai inserito se lui lo ritiene nocivo nessuno che ci clicca più su lo rimanda più a quel link perché viene bannato quindi quella lì è un'ottima poca spesa molta resa e andrebbe fatto di default quando non sai quello che ti è arrivato che cos'è sia che sia un link che che sia uno VIP che che sia un EXE che che sia un Excel eccetera prendete e buttate su VirusTotal se VirusTotal vi da ok potete praticamente stare tranquilli chiaramente dovete avere un EDR un antivirus sulla macchina se invece è un telefonino anche lì non credete alla fantascenfa prendere il possesso del vostro telefono cliccando un link non è fattibile gli dovete sempre dare un accesso se installa delle APT o comunque gli dovete dare un ok quindi se tutti fossero capaci o se ci fosse questa possibilità saremo pieni di ragaffini che inviano link a tutto il mondo ok prendere il possesso di un dispositivo Apple è quasi impossibile Android con un semplice link non è fattibile dietro ci deve essere tanto altro bene i vostri dati finiscono qui ma questi sono dati personali magari con le mail avviendali per questo Nino diceva non usate gli account di Active Directory i vostri account per poi andare in giro ma anche solamente perché io non sono un promotore del single sign on se avete una VPN in avvienda entrate con un firewall in single sign on sì è comodo perché l'amministratore di rete ha meno impatto deve lavorare meno ma io faccio sicurezza non faccio amministrazione rete per facilitare se voi avete un single sign on sul firewall senza una multifactor nel momento in cui vi prendono l'account di accesso all'Active Directory hanno accesso alla rete avviendale da fuori quindi il vostro user VPN l'account di Active Directory e tutto il pacchetto quindi sì single sign on ma multifactor non avete una multifactor non mi interessa se dovete mettere due password diverse perché chiaramente devono essere diverse non mi interessa se dovete inserire 500 utenti dentro il firewall non è un problema mio ok è un problema cioè è un problema mio se amministro questa vienda ma non deve essere una facilitazione la security come diceva Nino è semplice però se è troppo semplificata cioè non può essere semplice da implementare e semplice da gestire cioè è una bilancia o vi dovete sbattere tantissimo per implementarla e poi diventa semplice o altrimenti non ha un livello di security adeguato quindi se è troppo semplice da mettere su a quel punto lì è troppo facile da bucare bene questo invece è dove finiscono i vostri dati avviendali questi sono i due siti che fanno per la maggiore oggi che sono Alphavu e Lockbit che sono al momento i più famosi i più gettonati e questi signori si occupano di ransomware si occupano di bloccarvi di sfiltrare i dati e di chiedervi il 99% delle volte un doppio riscatto quindi ti pago per essere sbloccato poi mi paghi cioè poi ti pago perché tu non mi pubblichi i dati in giro qui l'ho lasciato in chiaro un attimo e poi l'ho messo in qui potete andare chiaramente non vi ho pubblicato i link perché non sono poi così banali da trovare per quanto si dica ah ma sì ma basta andare nel dark web non è che andate nel dark web scrivete forum di Lockbit e vi salta fuori non è proprio così in ogni caso queste sono tutte avviende che sono presenti voi andate lì scaricate avete tutti i dati dell'avvienda in mano tutte queste avviende qui possono chiudere perché o fanno finta che non è successo niente finché qualcuno che non è il loro cliente ci arriva o altrimenti qui la remediation non esiste più la remediation esiste se riuscite a controllare l'infezione e a bucare questo è Lockbit adesso vi faccio vedere hanno accorpato un mega forum comodissimo in cui vedete hanno messo adesso tutte le cartelline in ordine alfabetico all'interno ci sono tutti i vari data breach da scaricare poi li dovete scaricare chiaramente tramite Tor tramite VPN quindi ci mette del gran tempo però sono dei 70 100 200 300 giga di roba che viene giù e viene giù tutti i dati dell'avvienda qui dentro ci sono i nostri dati ci sono i dati dell'USLSSI di Padova ci sono i dati dell'università di Pisa ci sono i dati di tante avviende italiane private ok ci sono i dati di studi finanziari qua vi faccio vedere andate lì cliccate e vi scaricate semplicemente un file se volete solo o tutto il malloppone come avvienda questi invece sono quelli sul sito ufficiale quelli rossi sono quelli ancora da pubblicare qui non si vede ma ci sono i preffi per evitare che ve li pubblichino mentre quelli che passano in verde sono quelli che sono già stati pubblicati perché se non pagate entro tutto il tempo chiaramente più tempo aspettate più vi aumenta la cifra dopodiché loro pubblicano perché loro non interessa il dato quanto vale chi siete eccetera loro interessa fare cassa è solo una questione di denaro quando vediamo attacco terroristico alle ferrovie dello Stato attacco se stanno chiedendo soldi non è un attacco terroristico è business l'attacco terroristico è vi tiro giù tutto e voi tornate all'età della pietra e vi cancello tutto e a noi non interessa niente quello è un attacco terroristico ma nel momento in cui vi bloccano tre in Italia e vi chiedono 5 milioni per sbloccarli non è terrorismo lì è gente che fa business vuole dei soldi non glieli date va bene non c'è nessun problema chiaramente non è che ogni volta si può pagare qui sono in chiaro però questi sono già stati tutti pubblicati e vi prendete giù i dati nel momento in cui io ho un utente e questo è il riassunto dello speech di Nino nel momento in cui io ho un utente di Active Directory interno che fa un federation o un single segno sulla Azure AD l'ho rubata perché io non ho una Active Directory di questo tipo di test mi piacerebbe tantissimo su Azure questo user qua Alice molto semplicemente che cos'ha? Ha che ha i diritti per modificare un'applicazione a cui è stata assegnata ok questa applicazione è stata creata da un utente con diritti amministrativi da qui con una procedura che è un po' complessa ma neanche più di tanto ed alcuni script fate privilege escalation e andate come AD admin di Azure ok questo tool qua si chiama Blowdown è un tool che è in versione 4 perché nella versione 3 non aveva l'Azure AD hanno inserito la 4 ed è un tool di post exploitation che cosa fa? partendo da un utente valido allora se voi non avete non riuscite a guadagnare un utente valido di Active Directory voi non fate più niente c'è tutto il discorso di pen testing attacchi è finito non c'è più niente cioè il pen tester non serve più a niente quindi se voi mettete una due fattori sugli utenti blindate le password e fate in maniera che non ci sia un qualcosa che combacia tra gli user locali che inevitabilmente avete quelli di Azure voi siete virtualmente salvi a parte che non arrivi Nino e vi lancia uno script ok se invece non avete questo nel momento in cui avete un utente e avete anche solamente un tipo di accesso a determinati servizi con quell'utente un qualsiasi pen tester un qualsiasi article hacker che fa questo tipo di lavoro vi lancia blowdown e blowdown che cosa fa va a vedere se c'è la possibilità tramite role based access escalation eccetera e vi dà il percorsino di come fare per andare a diventare l'utente con i privilegi più elevati possibili nella vostra active directory sono successi i casi in cui un utente stupido a un certo punto passando per un exchange admin è diventato domain admin tutto questo me lo fa lui attenzione lui mi dice solamente il percorso non è che clicco e mi fa diventare domain admin dopo ci devo pensare io ma quello è il mio lavoro questo è un bel aiuto se volete ve lo potete scaricare è gratuito ve lo installate vi consiglio di installarlo su una piattaforma linux perché su windows lo riconosce come virus defender in questo caso lo cassa ve lo installate sulla piattaforma linux e provate a vedere se anche nella vostra active directory da un vostro semplice utente c'è possibilità di fare escalation se non c'è benissimo se c'è cominciate a vedere come mettere delle peffe vi lascio una cosa cosa è successo? è sparito? abbiamo craccato il monitor di microsoft? no? no? ok? ok questa qui è una piccola guida che ho cominciato a fare da 2-3 anni è piaciuta la continuo ad aggiornare mi scuso se ci sono dei typo perché effettivamente ogni tanto siccome sono tutti termini inglesi la correffina italiana non la posso mettere comunque ho cercato di eliminare i typo che c'erano in precedenza siamo alla versione 2022 all'interno c'è spiegato è un pdf lo potete richiedere lo lascio a Silvio lo potete richiedere e c'è sostanzialmente un po' tutto quello che è la storia di quello che è la mia vienda di come ha seguito i ransomware ne abbiamo fatti circa un'ottantina 85-87 chiaramente non dei miei clienti che cosa fare se venite colpiti da ransomware cosa non fare se venite colpiti da ransomware soprattutto c'è una piccola parte che spiega ultimamente come si muovono i ransomware quindi doppio riscatto eccetera e una parte importantissima che è la gestione dello stress ok perché voi quando siete sotto ransomware se avete mai la sfortuna vi auguro di no di essere colpiti da un ransomware voi a livello mentale sarete obnubilati dal problema quindi se non ce la fate perché avete la pressione di niente che funziona tutto criptato dovete tirar giù le connessioni non vi va più l'activity directory i dati stanno uscendo chiamate qualcuno che lo fa di mestiere e che vi dà una mano e in ogni caso il buon vecchio staccare il cavo in quel caso lì è la soluzione migliore se avete una struttura chiudete il firewall avete cioè il danno non sarà mai comunque pari a se lo lasciate aperto chiudete il firewall perché il server command and control al 99% delle volte lavora fuori questa gente lavora fuori a meno che non ci sia uno che dall'agriturismo se ne sta lì e sta dentro la vostra wifi a quel punto lì però chiudete la porta da fuori se avete la roba in cloud diventa più difficoltoso perché se la chiudete poi non riuscite a cedere nemmeno voi teoricamente fino ad oggi i software as a services o comunque gli ibridi cloud non dovrebbero essere attaccabili in realtà non è vero non hanno tolto difficoltà non hanno tolto attacchi perché come vedete non andiamo ad attaccare il cloud non ci andiamo ad attaccarlo diretto poi se avete tutto decentralizzato tutto due fattori tutto disgiunto dagli account noi non serviamo a niente ed è quello che stiamo cercando di fare perché ne io ne Sivio cioè io mi sono trovato a fare questa cosa per necessità ma starei vi assicuro molto meglio se non venissi chiamato da gente che piange perché non sto scherzando perché gli hanno bloccato l'azienda questa cosa si può risolvere o perlomeno mitigare al 97% e la prima cosa è la formazione sulle persone la prima la seconda è chiudere quella parte di misconfiguration o di buchi che ci sono e per farlo voi non siete in grado di capirlo perché è la vostra struttura la conoscete troppo bene e non vedete oltre quello che c'è chiamate qualcuno da fuori che vi dà un'occhiata lo farete prima come diceva Mentadent prevenire è meglio che curare un'occhiata un'occhiata che c'è